Il Misericordioso Dio, padre di tutti gli uomini! Cane di un giudeo, come osi toccare il nostro signore? Devo portare questo ragazzo a Napoli dal mio signore e lo farò con te senza di te. Perché permetti che il tuo popolo sia così disperso, esiliato, senza colpa? Noi dobbiamo restare fedeli al nostro unico vero Dio, che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il Misericordioso vi accompagni e vi protegga. Stiamo cercando Mastro Schumek. Diozue, attento! Tutta colpa sua. No, lui non è a colpa. I figli avete fatto rispettare di là! Se fate quello che vi dico, tenete la bocca chiusa, riavrete la libertà. Sono venuto a voi come straniero e mi avete scacciato. Tu non sei il Messia! Non sei il Messia, Diozue! Non sei il Messia, Diozue! Io credo che ognuno dovrebbe adorare il suo Dio e lasciare in pace quello degli altri. Noi non sei il Messia, Diozue! Noi non sei il Messia, Diozue! Noi non sei il Messia, Diozue! Noi non sei il Messia Noi non sei il Messia, Diozue! Grazie.